Ciao a tutti, in questo breve video vi faccio vedere gli scarponi che ho messo in vendita sono dei Vans della serie Performance, quindi la top di gamma Vans il modello è Denier Frank e il numero è un 11 americano, quindi un 44,5 per noi in Italia c'è da dire però che lo scarpone è un calza leggermente piccolo, quindi ad esempio io utilizzo scarpe 10,5 però questo scarpone mi trovo bene con taglia 11 lo scarpone è uno scarpone da freestyle, un pro model, quindi è uno scarpone molto morbido che comunque però nonostante sia usato continua ad essere molto reattivo come potete vedere lo scarpone non presenta danni di nessun genere a parte alcune lacerazioni dovute all'uso, ma che comunque non pregiudicano in nessun modo la funzionalità dello scarpone allora vi faccio vedere brevemente le caratteristiche di questo scarpone allora innanzitutto guardiamo la suola che è in materiale molto morbido quello che viene usato normalmente nelle scarpe da ginnastica la suola ha un buonissimo grip sulla neve e poi molto importante è la presenza di questo cuscinetto in gel che ammortizza all'atterraggio dei salti allora lo scarpone ha un sistema di chiusura a lacci e una scarpetta interna dunque vi sono due sistemi di lacci il primo esterno e poi quello interno che serve a fissare il piede alla scarpetta interna la scarpetta interna è in un materiale termoformante che quindi col calore del vostro piede si adatta alle forme del vostro piede la scarpetta interna è rimovibile ok vi faccio vedere un'ultima volta gli scarponi con questo ho concluso ciao a tutti grazie grazie